abbiamo appena lasciato Luxor e ci stiamo dirigendo con la nostra nave verso Edfu siamo per visitare il tempio di Edfu uno dei più conservati di tutto l'Egitto fu eretto da Ptolomeo III nel 327 a.C. su quello molto più antico di Thothmosis III grazie a tutti 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 del tempio di Comombo, uno dei luoghi più pittoreschi dell'Egitto antico. Il tempio di Comombo sorge su un promontorio che domina l'Ansa del Nilo, sul sito di un precedente luogo di culto. La particolarità del tempio era costituita dalla dedicazione del culto a due diverse divinità, ossia il dio coccodrillo Sobek ed Oro, una delle manifestazioni solari del dio Falco. 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 Falco.